Io so che quelli da PS4 questa schermata vale molto per loro Io so che tutti quelli che mi seguono vale molto questa schermata Finalmente sono arrivati i server su Minecraft PS4 Probabilmente perché sarà uscita la PS5, chi lo sa Ma adesso perché non festeggiare facendo una bella partita nelle Murder Mystery su The Hive Ci sta? Andiamo Eccoci qua, siamo nella partita delle Murder Mystery e vediamo un pochettino che cosa ci capiterà oggi 3, 2, 1, Innocent Beh come sempre, allora Io se vedete che sono già a livello 13 di rank perché visto che ho l'account Microsoft Perché a volte ci giocavo anche da tablet ai server ma proprio un anno fa E c'avevo questi record ma poi ho smesso perché a tablet non mi ambientavo molto Non sapevo giocare molto bene Però comunque ho connesso l'account Microsoft alla Playstation E stranamente Mentre che mi hanno ucciso e stranamente mi ha salvato tutti i record Ma adesso veramente, cioè mi hanno già ucciso Abbiamo già finito, non so cosa sia successo Sempre innocente Fortunati nel senso, cioè, allora Io mi devo un pochettino studiare quello che fanno gli altri player Tanto Alex non... perché mi devono rubare sempre i coin? Comunque per chi non lo sa i coin servono Servono a sbloccare molti... Già morto detective, non ci credo Servono a sbloccare molti power up Tra cui se arrivi a 10 coin collezionati potrai avere un arco con un solo proiettile È come avere una pistola con un solo proiettile Però almeno se trovi l'assassino lo puoi uccidere te e non i detective Adesso visto che lo sceriffo è morto, in questo server lo chiamo sceriffo Però mi piace molto chiamarlo detective Qui visto che lo sceriffo è morto Teoricamente ci dovrebbe... eh sì Ci... Ma dai Uno ha preso l'arco del... Uno ha preso la pistola del detective e è morto subito dopo Quindi significa che l'assassino sta vicino a... sta vicino all'arco Ok, allora... Ancora non lo vedo nel... Di nuovo, ma dai! Adesso sto a 6 coin Se arrivo a 10 mi faccio un arco, almeno se vedo l'assassino Allora Qua... qua è proprio un gioco dove non ti devi fidare di nessuno Neanche dei tuoi amici più cari Le murder missus sono proprio belle per questo Non... non ti devi mai fidare di nessuno Oh, abbiamo vinto! Non so che sia successo, non so neanche chi sia Però passiamo all'altra partita Sempre innocente Cioè... Eh... Anche se non è molto bello fare murder missus quando sei sempre innocente Perché non è che ti diverti poi così tanto Non è che ti diverti più di tanto Ok... eh... Vediamo un pochettino cosa si... Ok... Prendiamo il coin Qua c'è... qua c'è un po' troppo assembramento Non pensate? Ok... Tanto qua c'è tipo... Tavoli volanti Che cavolo non so io Sembra... Sembra Harry Potter tra un po' Ma porca miseria Poi il fatto che ti... Quando killano qualcuno nel murder mystery Il rumore che... Il rumore con la spada che te uccidi tutti Si sente in tutta la mappa Si sente da qualsiasi parte tu sia Mamma mia Questo qua può... In cinque innocenti siamo rimasti Non ci credo Ah proprio qua c'è la po' Bello Ok... Otto Dai che c'è... Nove Dai Luca Questa era l'ultimo Visto l'assassino Con lo stil con la maglia gialla Oh... ok Eh... Ok adesso c'ho il... Ok c'ho il... C'ho l'arco del poliziotto Mo... Devo fare mo... Eccolo No! Non l'ho preso Non l'ho preso porca miseria Non... Non ho... Niente Ma... Ma porca miseria Ma non ci credo Sempre innocente Sempre innocente Sì è veramente Per questo che le murder mystery Non è che sono proprio Così tanto... Così tanto amate dai giocatori Perché... Non c'è se sei... Quasi tutte le volte sei innocente Non sei... Cioè ma almeno detective Per favore Almeno detective Almeno scerifo Come li chiamo Io non so... Nelle cavolo di hive Qua Allora Qua non mi devo Non devo credere A nessuno Ah bella Questa Questa skin dorata Intanto Vediamo un pochettino Se riusciamo a fare Qualcosa di più Ma... No Ancora... Ancora non... Per il momento Non ho nessun sospetto Per il momento Adesso Siamo a 5 coin Adesso faccio tutto il giro così E poi mi becco l'assassinio No Anche se non Ok A volte quando spawnano i coin Vedi si vede anche Steve Comunque Ma porca miseria Ma... Certo che sto... Sto assassino Sta facendo Sta facendo proprio una carne Vicina Vabbè L'hanno già fermato Va bene E sono di nuovo innocente Ma quanto bella la vita In effetti si sapeva Che qua c'era un passaggio Era sicuro Che c'era un passaggio Un passaggio segreto Ma si ritorna qua Sul tavolo volante Ok Non so Io c'ho un po' C'ho un sospetto Un po' su tutti Vi dico la verità C'ho un... C'ho un sospetto Un po' su tutti Qualsiasi persona Potrebbe essere l'assassino qua Ma qua si ritorna Alla stanza di prima Io vorrei andare in... In certe zone Non ci sta nessuno Per prendermi tutti i coin E poi farmi... Puoi farmi l'arco Ok Quattro Ah Ah queste foglie Si possono attraversare Figo E poi qua Sono ritornato al posto Di prima Dove sono sponato io Mmm Di qua dove si va? Ah qua si va sempre Alla porta Dove ero io prima No qua non c'è Sta nulla Qua non ci sta nulla No Eh porca misa Ho visto l'assassino Ho visto l'assassino Ho visto l'assassino Via 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 Ho visto proprio con la spada in mano Che stavo uccidendo uno di... Nonna Poi tipo in tre e in quattro Stavano andando verso l'assassino Praticamente Almeno so chi è Da quel che ho capito È tipo uno Tipo uno con i capelli Capelli viola e la maglia azzurra Ok adesso c'ho un arco Ecco mi sembra che sia lei Da quel che ho capito Mmm Oh Grande... Come si chiama? Grande White Rocket Per aver ucciso... Per aver ucciso l'assassino Vediamo se stavolta riusciamo a Essere qualcosa di... Uuuuh Finalmente assassino Finalmente sono un assassino No Mi sa che non m'ha visto lei Mi sa che non m'ha visto Allora Devo cercare di essere un pochino Un pochino sneaky Nell'uccidere le persone Ok Ok L'ho ucciso dalla pratica Probabilmente mi avrà visto qualcuno Ma non credo C'è poi nel classico nascondiglio Dove si mettono tutti E poi li trovano un... Un morto No porca di Dove ho fatto... Dove ho fatto al contrario Allora devo premere subito R1 R2 L1 No Qua non ci sta nessuno Non sono molto pratico con la spada Perché dopo tutto È la prima volta che sono Che sono un assassino Nella... Nella bedrock No Che è nella bedrock Nella PS4 Ok Un altro andato Sono un pochino lento A fare le killman Un po' normale Visto che è la prima volta Che sono l'assassino Sceriffo No mi sa che lo sceriffo È morto perché Ha accusato qualcuno Di sbagliato Ma porca miseria Non riesco... Cioè io vorrei fare tipo Quegli trickshot Sneaky sneaky Ma che non riesco mai a fare Allora Intanto qua Nessuno sospetta di me Quello là c'ha l'arco Ok Un'altra andata Mi sto facendo fuori Ok Che siamo a 4 kill Per adesso Ma se ci sta Troppa gente Lui ce la sospette Su qualcuno Meglio allontanarsi Da chi c'ha l'arco Per il momento Ma vuole prendere Provo me Lui Sai che hai capito Che so io Mi sa Dai vieni Vieni Ok Andato Ok Un problema in meno Mi stava battendo Il cuore a 2000 Quando lo so Va bene E nulla ragazzi Io direi che per questo video è tutto Ci vediamo alle 18.30 Che giochiamo sempre qua sui server In live su Twitch E io direi che da Infiltrator È tutto Ciao ragazzi E io direi che per questo video è tutto E io direi che per questo video è tutto E io direi che per questo video è tutto E io direi che per questo video è tutto